Benvenuti guardi nel mio nuovo video su Destiny, questa volta per una novità riguardante una sfida con gli Astori. Durante il Playstation Experience è stato rilasciato un contenuto relativo a Destiny basato sulla corsa con gli Astori, un evento che molti giocatori di Destiny si aspettavano praticamente dal day one e con questa novità è stato anche rilasciato un trailer, che è quello che vi sto facendo vedere in dei spezzoni, con le corse appunto con gli Astori. Potete sfidare i vostri amici e questo evento sarà disponibile dall'8 dicembre fino al 29 dicembre, tre settimane quindi. Ci saranno delle ricompense? Beh ovvio, ci saranno ovviamente degli Astori esclusivi e vari pezzi di armamento e armatura esclusivi. Per avviare il tutto dovrete recarvi in torre da Amanda Holiday e si vocifera attraverso delle news su Reddit che ci sarà anche forse una storia esclusiva per Playstation. Detto ciò non ho ulteriore novità per ora, vi invito a lasciare un polliciano alzato e un parere qua sotto e noi ci vediamo prestissimo per altrettanti video su Destiny e Battlefront. Qua in morti, bella per tutti, buona caccia guardiani!